ecco dovremmo essere in diretta magari qualcuno mi dà anche un'indicazione se si vede bene se sta funzionando tutto chiudi l'applicazione inutilizzate ok a 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 pronto ciao ciao si si sarei in diretta io ciao allora buonasera si vede si sente bene benissimo grazie grazie delle informazioni che sono preziose c'è l'idea ivan maria angela graziella bene 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 ok allora ci prendiamo un minutino per far entrare ancora alcune persone buonasera buonasera susanna terri guglielmo c'è anche la maria vittoria poi vediamo anna eccola anna la nostra anna poi poi lì via si stanno aggiungendo un pochino di persone bene noi riprendiamo questa sera le letture che stiamo facendo dal volume dai mondi in invisibili no non dai mondi invisibili oltre l'illusione oltre l'illusione eravamo arrivati quando ci siamo salutati nel 2021 eravamo arrivati a pagina 103 del libro oltre l'illusione stiamo leggendo buonasera buonasera angela serena stiamo leggendo le comunicazioni di campis come già ho avuto modo di dire in altre occasioni campis non è il tommaso da campis di cui conosciamo limitazione limitazione che insomma è il testo suo più conosciuto limitazione del cristo e non è quel che è in pisla ma i nomi che si diedero le guide del cerchio di Firenze 77 sono in realtà dei nomi così convenzionali semplicemente per poter nominare indicare e quindi avere un riferimento anche nominale però in realtà non rimandano a nessuna delle figure conosciute tranne pochissimi che hanno svelato qualcosa di sé ma che al tempo stesso buonasera Raffaello Raffaella al tempo stesso ci hanno dato l'indicazione di rivolgersi ad altri maestri questi altri maestri con come se fossero loro stessi discepoli di questi maestri cioè chi ha rivelato qualche cosa di sé si metteva come su un gradino diverso ora non so se questo fosse un po il come dire il gioco delle parti di questo incredibile fenomeno che è stato il cerchio Firenze 77 nel quale intervenivano veramente tantissime voci voi sapete sia dei trapassati parenti di coloro che erano scomparsi ma soprattutto a noi la cosa che interessa di più varie voci che per 37 anni quasi 38 anni hanno sviluppato questo ponderoso insegnamento che poi è stato raccolto in alcuni volumi che sono pubblicati dall'edizione mediterranea noi stiamo leggendo il secondo volume di queste guide le guide di cui in realtà niente sappiamo tranne che sono delle guide spirituali altissime come se fosse la coscienza del coscienza del cosmo che in qualche modo si coagula e si fa piccola per venire in contatto buonasera paolo venire in contatto con 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 noi con il nostro vocabolario usando linguaggio e modalità che ci facessero sentire affini sufficientemente a noi vicini e questi erano Dali, Campis, Claudio, Teresa, Teresa di Lisiede in realtà sappiamo chi è quindi diciamo sono sostanzialmente questi più alcuni altri che si sono presentati più raramente il cosiddetto maestro orientale qualche cosa sappiamo del veneziano che era un occultista che ha vissuto nel nel veneto e in particolare a Udine durante il nel periodo della rivoluzione francese era un polacco veniva però chiamato il veneziano curiosamente essendo di origine polacca questo questo non so se chiamarlo un maestro incarnato essendo di origine polacca essendo vissuto in Italia parlando bene la nostra lingua si esprimeva con una voce che assomigliava moltissimo a quella del Papa Vojtyla è stata molto curiosa come modalità questo prima naturalmente che Vojtyla salisse al sogno papale che quindi lo conoscessimo come tale Buonasera Luisa, Giovi e andiamo quindi avanti con la nostra lettura quello che leggeremo stasera riguarda alcuni aspetti della morale un tema molto caro a Campis però direi da questa lezione che inizia a pagina 104 del volume Oltre l'illusione a proposito ora mi sto rivolgendo a chi ha il testo sotto mano ma ricordatevi che questi testi i testi che noi leggiamo dei libri che di idea stiamo leggendo vengono messi nella sezione file dove li potete scaricare per studiarli per averli con voi se non avete il libro nella sezione file della pagina Facebook il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda quindi lì trovate i testi quando volete seguire i testi direttamente andate a recuperarli là se non avete il libro questa lezione inizia a pagina 104 ed ha il titolo La morale e le norme di comportamento è una lezione del 1976 questa qui però noi salteremo le prime due pagine e andiamo a pari pari all'inizio al secondo rigo del primo capoverso di pagina 106 perché tutta quella parte precedente che potrete leggere per conto vostro diciamo che prelude a questa parte che iniziamo a leggere adesso è il sito dice Kempis nella natura egoistica di ogni uomo stigmatizzare gli altri per innalzare se stessi questa è una cosa che noi facciamo costantemente se voi ci fate caso un po' di più un po' di più continuamente noi troviamo da ridire qualche cosa su qualcun altro che sia un personaggio pubblico che sia una persona che conosciamo che sia un parente che sia è un costante puntualizzare su quello che è stato detto non è stato detto ma si poteva fare così cosa un commento un giudizio è proprio nella nostra natura questo naturalmente il giudizio di condanna deve trovare riferimento in qualcosa nel comportamento degli altri che sia condannabile da un qualche punto di vista perciò si passa in resegna la loro vita la si confronta con la propria e dal confronto si pongono in evidenza quelle azioni che così a freddo e ben lontani dalla contingenza si crede non facciano parte della propria natura dimenticando che l'occasione fa l'uomo ladro ricordo una volta proprio campis ebbe a dire chissà se posti in certe condizioni voi vi comportereste nel modo che così immaginandole adesso certe condizioni pensate di poter tenere come comportamento messi proprio alla prova alcuni uomini hanno mostrato alcuni esseri umani uomini e donne hanno mostrato un coraggio che non pensavano di avere e così come messi alla prova alcuni uomini e donne invece si sono rivelati a se stessi meno di quel che pensavano di essere perciò in effetti questi confronti noi li facciamo molto a freddo e valutando noi stessi spesso più sulla teoria che sulla pratica ne consegue dice campis che certe azioni che rimangono singole rispetto al comportamento generale vengono bollate col marchio dell'infamia e così la regola è creata quindi campis qui sta dicendo quando qualcuno si comporta in in un modo che non è quello consueto un po del gruppo un po di tutti della società in cui si vive quel comportamento viene stigmatizzato e così si crea una regola sicché la regola non individua certi valori assoluti questo è il punto diciamo nelle due pagine precedenti si ha speso molte parole per spiegare questo punto il punto su cui noi ci stiamo muovendo ma che è importantissimo anche se è proposto in questa modo in questa modalità da campis più discorsiva il punto è che in realtà non esiste una morale al quale fare una morale di valori assoluti al quale fare riferimento ma che questa morale sostanzialmente viene di volta in volta modificata in maniera concia in base a quel quelle che sono le abitudini sociali del momento in cui si vive allora dice la regola non individua certi valori assoluti non ha valore in sé ma è tale in quanto rispecchia il comportamento generale degli individui di una società quindi la regola rispecchia un comportamento generale degli individui della società in quella società e in quell'epoca storica perché in un'altra epoca storica era completamente altra la regola morale una questione statistica insomma e il giudizio di condanna che subisce chi viola chi la viola questa regola non deriva dal bisogno del giudice di erigersi attutore di supposti valori morali ma unicamente dall'istinto di ognuno di trovare nel comportamento degli altri qualcosa di condannabile da un qualunque punto di vista perché mostrando il fango che si è gettato sugli altri si crede di nascondere il proprio quindi la modalità con la quale noi operiamo spesso inconsapevolmente è questa puntando il dito su qualcun altro e abbassando l'altro in qualche modo si è come se si creasse una specie di cortina riguardo a noi che ci protegge che non ci fa vedere né agli altri né a noi stessi chi noi siamo veramente questa è una modalità con la quale ci difendiamo noi psicologi usiamo spesso dire che proiettiamo sugli altri cose nostre e mi ricordo che una di queste guide che intervenne negli ultimi anni nel cerchio firenze 77 che è stato françois brusset françois nella mia ultima incarnazione era stato françois brusset di lui appunto sappiamo qualcosa ma quello che ci parlava era françois e basta cioè era la più ampia coscienza che aveva abitato anche françois brusset nella sua incarnazione e lui disse proprio ma quando voi siete infastiditi da qualche cosa che vedete negli altri vuol dire che quella cosa che vi dà fastidio o è vostra fa proprio in parte di voi e riuscite a vederla solo negli altri tanto da fastidio a voi stessi oppure è qualche cosa che avete appena superato che state superando una cosa molto fresca insomma molto presente dentro di voi e quando elogiamo gli altri mi chiede tiziana facciamo molto bene perché quando le persone fanno qualche cosa di buono è un'ottima cosa farlo presente sempre rinforzare negli altri le cose buone che fanno e creare questo clima di sostegno di incoraggiamento questa è una cosa che fa sempre molto molto bene ma la tendenza che abbiamo noi in realtà è fare quello che da nelle nostre parti qui dalle mie parti si chiama il taglia e cuci cioè prendi una persona e vai a cercare tutti i punti di debolezza di imprecisione quello che non è stato fatto bene vediamo se ritrovo il punto dove siamo arrivati sì mostrando il fango che si è gettato sugli altri si crede di nascondere il proprio abbassando gli altri si è convinti di innalzare se stessi la conclusione di questo discorso e cioè la relatività delle norme morali di una società è fin troppo scontata ma che cosa succede quando queste norme sono credute comandamenti dettati da dio e qua ci riallacciamo ancora una volta discorso religioso che abbiamo avviato all'inizio anche senza entrare nel merito della dettatura un po fa un po di ironia su questo dio che detta le tavole a mosè è chiaro che il valore rimane è ugualmente relativo se infatti ancora una volta e questa volta per nostra comodità ci rifacciamo alla natura osserviamo come ogni specie abbia le sue regole di vita che sono quelle e vanno bene per quella specie e non per un'altra in modo analogo dunque i comandamenti di mosè per esempio non possono contenere tutta la moralità o la più alta moralità è evidente che si tratta di principi quantomeno riferibili a un dato tipo di società ad una fase dell'evoluzione degli esseri infatti per la fase dell'evoluzione che voi dovete compiere il non uccidere di mosè è l'inizio di un discorso che si concluderà col superare la visione egoistica della vostra esistenza cioè qui si dice che il non uccidere è proprio è rivolto come dire alle persone che sono proprio agli inizi della loro del loro percorso evolutivo quando uno ha fatto proprio il non uccidere è diventato propria natura non ha nessun valore come indicazione morale perché non l'interessa non fa parte della sua vita ciò che gli interessa sono indicazioni morali che vanno oltre e cioè il superamento della visione egoistica della propria esistenza quanta strada dice campis fratelli allora sorge una domanda nell'ambito di questo discorso c'è una regola che sia valida in senso assoluto per ogni uomo dal selvaggio al santo che sta per lasciare la ruota delle incarnazioni umane ci chiede campis e si chiede campis ma c'è una regola che valga per tutti dal selvaggio al santo dal punto di vista della morale c'è una morale comune evidentemente c'è campis no perché ciò che è ideale morale del santo applicato al selvaggio ne paralizzerebbe ogni moto vitale il selvaggio non ha alcuna capacità di comportarsi di seguire delle regole morali di qualche tipo le regole morali che sono quelle del santo non ha nessuna proprio competenza esistenziale non ha ancora sviluppato il minimo di strumenti necessari non solo dice campis c'è dell'altro guardate nella nelle società umane una legge è un insieme di principi generali e astratti che dovrebbero vigere per ogni uomo che si trovi nell'ambito territoriale di quella società tu sei in italia devi seguire le regole di chi sta in italia in italia si vive così e quindi si seguono quelle regole chi è preposto alla promulgazione delle leggi cura che queste divengano di pubblica conoscenza ovviamente se chi vive abita nel territorio dove si applicano determinate leggi deve venire a conoscenza di quelle leggi quindi deve devono essere fatte conoscere queste leggi una volta quando gli uomini non sapevano leggere e scrivere vi erano le grida cioè gli editti gridati dai banditori e in quel modo portati a conoscenza dei sudditi oggi invece le vostre leggi sono pubblicate nell'intesa che ogni cittadino sappia leggere e fino a che non è assolta la formalità della pubblicazione la legge non entra in vigore questo ripeto nel difettoso e lacunoso mondo umano ora se lo scopo della vita dell'uomo fosse quello di fare la volontà di dio cioè di seguire le sue leggi come si dice queste dovrebbero essere uguali per ogni uomo non solo ma dovrebbero essere conosciute da tutti gli uomini cosa che non è in assoluto gli indios o amerindi per esempio non conoscono i comandamenti di mosè né è vero che abbiano delle regole morali innate che li sostituiscano che quelle che dovrebbero essere leggi divine non hanno quel carattere di universalità che dovrebbero avere per proprio perché primo perché non sono uguali per tutti gli uomini secondo perché non tutti gli uomini le conoscono o quantomeno hanno l'occasione di conoscerle e ciò esclude che lo scopo della vita dell'uomo sia quello di seguire e di osservare le leggi di dio qui c'è questo paragrafetto che andrebbe sottolineato e tenuto presente perché è una sintesi perfetta del nostro percorso noi diciamo che lo scopo della vita dell'uomo è quello di superare l'egoismo che in lui nasce dal senso di separatività questo scopo è raggiunto attraverso a molteplici incarnazioni durante le quali l'uomo passo su passo volge verso quella meta ma per raggiungerla non ha valore tanto il non uccidere di mosè quanto la dottrina di marx stessa cosa ripeto le cinque righe sopra noi diciamo che lo scopo della vita dell'uomo è quello di superare l'egoismo che in lui nasce dal senso di separatività quindi è il senso di separatività che genera un uomo nell'uomo l'egoismo il superamento dell'egoismo avviene attraverso la trasformazione di questo senso di separatività questo scopo cioè superare l'egoismo che significa anche superare senso di separatività è raggiunto attraverso molteplici incarnazioni durante le quali l'uomo passo su passo volge a quella meta sempre di più capite bene che il santo sta già raggiungendo ha già raggiunto quella meta il santo guarda verso non si sente separato dagli altri spende la sua vita per gli altri volendo essere gli altri il selvaggio no il selvaggio non ha questi strumenti il selvaggio pensa esclusivamente a se stesso l'egoismo non è un atto morale nel selvaggio è la sua natura è così e all'inizio di un percorso evolutivo non può che esprimersi così dice campi nelle varie fasi dell'evoluzione umana l'ideale morale che l'uomo deve raggiungere e fare propria natura acquisita potrà essere il non uccidere e poi il non fare agli altri quello che non si vorrebbe che fosse fatto a sé e infine l'amare gli altri come se stessi queste le fasi di un percorso evolutivo ne consegue che il giudizio che si può dare che si può fare di un uomo ammesso che sia lecito giudicare deve essere rapportato alla sua fase di sviluppo allora mariella dice chi punta il dito sempre sugli altri e il loro operato secondo me è una persona debole con scarsa autostima generato da profonda insicurezza ma diciamo diciamo che è un po un po l'abitudine un po di tutti noi quelle comunque di confrontarci sempre con gli altri gigliola dice ma abbiamo una coscienza coscienza che ci parla da dentro basterebbe ascoltarla e ecco questo è un punto che stavamo toccando abbiamo una coscienza ma quanto è for quanto è sviluppata la nostra coscienza il punto è proprio questo non è non è un fatto come dire moralmente disdicevole che uno abbia un certo comportamento poco edificante diciamo no che secondo le categorie degli uomini non è un buon comportamento ma non è un fatto se noi lo poniamo sotto la lente della morale della nostra morale la nostra personale morale ovviamente troviamo sempre qualche cosa che non va nel comportamento certi comportamenti degli altri qui stiamo guardando un'altra cosa stiamo guardando il fatto che è vero che abbiamo una coscienza e che dovremmo ascoltarla innanzitutto dico dovremmo perché non riusciamo sempre farlo spesso non siamo tanto consapevoli della coscienza che abbiamo altre volte non siamo non abbiamo imparato ad ascoltare questa voce interiore ma c'è un punto che fa la differenza che è sostanziale su tutto e c'è che ognuno ha la propria coscienza se una coscienza attraverso un certo numero di incarnazioni ancora non è maturata a sufficienza per impedirti che ne so di rubare i soldi delle lemosina in chiesa quello quello è la tua il tuo grado di coscienza stai esprimendo quel poco che sei e non puoi essere neanche giudicato per questo se tu lo giudichi agli occhi della morale allora ovviamente esprimi un'opinione negativa su quello che è accaduto ma se lo guardi semplicemente come una fase di un percorso evolutivo di una creatura di un essere quello che compie quel gesto è nella sua fase evolutiva e non può non compiere quel gesto forse nella incarnazione successiva potrà scegliere se compierlo o non compierlo perché qualche cosa avrà un po modificato il suo comportamento lo avrà fatto diventare più riflessivo su certi comportamenti ma nel momento in cui lo fa e quel grado di coscienza oppure di maturità di coscienza che si sta manifestando dipende da come si è sviluppata la coscienza allora il problema a qui si entra dentro un'altra fase io qui in fondo a questo paragrafetto che ho appena letto cioè ne consegue che il giudizio che si può dare si può fare di un uomo ammesso che sia lecito giudicare deve essere rapportato la sua fase di sviluppo quello che stavo dicendo proprio adesso saltiamo queste ultime righe e andiamo all'inizio anzi andiamo a pagina 109 leggiamo il paragrafo conclusivo di tutta questa lezione di campis l'altra parte la leggerete molto interessante però possiamo andare direttamente a questa parte qua perché poi il discorso prosegue nella lezione successiva e non voglio che ci perdiamo il filo però quest'ultimo paragrafo lo voglio leggere perché è una bella sono delle righe molto belle da leggere e quando si rivolge campis prima si rivolge a tutta una serie di individui che hanno determinati comportamenti ma infine si rivolge a chi a voi che sopportate il peso della vostra esistenza modesta nell'ombra e nell'altrui indifferenza che fate il vostro dovere anche quando nessuno ve lo impone che siete paghi di ciò che avete comprendendo che una sola cosa è necessaria che siete gli ultimi fra gli uomini non perché siete timorosi o incapaci ma perché avete compreso che nessuna ricchezza nessuna notorietà nessun potere valgono ciò che sta al di là di essi io dico un sottile velo separa la vostra consapevolezza dalla mia realtà caduto quello queste mie parole di speranza saranno la vostra vivida certezza e ciò è più di ogni ricompensa e mi viene anche da dire che ogni tanto ho incontrato delle persone così che vivono modestamente nell'ombra spesso nell'altrui indifferenza queste persone silenziose umili che sembrano avere una luce dentro meravigliose credo che stia parlando di queste persone campis in questo punto e continua il discorso che abbiamo fatto fino ad ora nella lezione seguente che pochi mesi dopo questa sera dice campis continuerò un discorso che iniziai nello scorso ciclo di riunioni e che lascia in sospeso con una domanda chiedevo l'uomo è colpevole delle azioni che compie infrangendo la morale relativa al suo stadio di sviluppo individuale ebbene subito dire che è necessario anzi indispensabile sgombrare il terreno dal concetto della colpevolezza e della punizione tanto caro alle religioni di tutti i tempi l'idea che le sventure che colpiscono l'uomo siano un vago siano un castigo divino conseguente all'infrazione di qualche legge divina è di origine prettamente umana se farai una certa cosa o non ne farai un'altra male te ne incoglierà qual è stato il sistema con cui i governanti di tutti i tempi hanno cercato di imporre le loro regole se non quello di minacciare gli eventuali trasgressori con una sanzione così gli uomini hanno creduto che dio usasse per imporre il suo volere lo stesso metodo che usa chi detiene il potere ma dovete convenire con me che sarebbe ingiusto che dio punisse chi va contro la sua legge quando perfino gli uomini sentono il bisogno di far conoscere le loro regole prima di renderle operanti il discorso muta dalle fondamenta se si toglie il concetto della colpevolezza comunque ingiusto è ancora più ingiusto se la legge non è conosciuta dicevo comunque ingiusto perché le leggi non sono universali come abbiamo visto nell'occasione precedente se come affermiamo lo scopo della vita dell'uomo è quello dell'evoluzione allora la differenza che c'è fra un evoluto e un inevoluto non sta nel fatto che l'evoluto conosce e quindi rispetta il volere di dio mentre l'inevoluto lo ignora e quindi non lo segue non l'osserva ma sta nel fatto che l'evoluto ha una diversa natura rispetto all'evoluto questo è un punto veramente cruciale non si tratta il fatto che uno segua un'indicazione perché è una legge del divino non si tratta di seguirlo come non so da piccoli ci insegnavano almeno a me hanno insegnato c'era il catechismo ci insegnavano che cosa si faceva cosa non si faceva ma erano tutte cose che venivano erano parole che poi si appiccicavano addosso e uno cercava con la buona educazione di apprenderle seguirle imparare come si fa come non si fa ma qui si parla di quello di ciò che è la tua propria natura di che cosa è diventato tuo se tu per tua natura hai superato il fare del male a un altro essere non c'è modo di fartelo fare non c'è bisogno che ci sia una legge che ti dica tu non devi fare del male a un'altra persona perché se è mia natura non farlo che tu me lo dica non me lo dica non mi cambia niente io non farò mai comunque perché sto esprimendo questa natura in virtù di un percorso evolutivo che ha raggiunto quella maturità cioè la maturità di un essere che non farà mai più del male a nessun altro sicché certe leggi o regole esistono debbono esistere per dare all'uomo una natura ultra umana e non per punirlo se le viola perciò che siano conosciute o ignorate possiamo rispondere che di massimo non fa alcuna differenza e ugualmente perseguono lo scopo per il quale esistono che quello di far evolvere l'uomo queste tutte queste cose hanno questo scopo far evolvere l'uomo farli superare il suo senso di separatività trasformare il suo egoismo in altruismo questo è tutto il percorso molto lungo impegnativo che ci vede come esseri incarnati per esempio la famosa legge di causa e di effetto esiste egualmente che l'uomo la conosca o la ignori ed egualmente persegue lo scopo per il quale esiste guai se esistesse solo per chi la conosce ripeto non si tratta che l'uomo debba astenersi dal fare qualche cosa per cui sarebbe necessario che gli conoscesse che cosa gli è vietato non si tratta di questo ma si tratta di ben altro secondo alcune religioni dice campis dio crea le anime e poi nel mondo le collauda quelle che superano la prova godono della sua visione le altre patiscono pene talvolta anche senza fine colpevoli in definitiva di essere un aborto della creazione divina noi affermiamo che la vita non è una prova semmai è una scuola e che l'uomo proprio perché vive e dalle varie vite raggiunge livelli di coscienza sempre più ampi se allora lo scopo generale della vita dell'uomo è quello di far evolvere l'uomo e ciò attraverso a varie tappe in cui prima impara a non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a lui stesso e poi a fare agli altri quello che vorrebbe fosse fatto a lui stesso allora è chiaro che ogni qual volta l'uomo indirizza se stesso contro lo scopo della sua esistenza sorga un correttivo naturale capite cioè lo scopo è quello di farmi crescere tutte le volte che io mi oppongo a questo scopo in cui prevale in me l'egoismo ecco che sorge un correttivo naturale non c'è un qualche signore del karma che mi fa piovere su di me quella cosa perché così mi punisce per come mi sono comportato ma arriva un correttivo naturale e questo dice campis è realizzato attraverso al famoso karma che ormai tutti sapete che cosa sia che non è un mezzo puntivo dice gigliola l'evoluzione dipende anche dalle cose che si ha affrontato nella vita nelle cose che che si sono affrontate nella vita sì e sono forze interne ed esterne la vita diciamo ciò che noi incontriamo sono le forze esterne che ci spingono a prendere coscienza di noi stessi attraverso certe esperienze che facciamo e questa azione esterna e reazione interna e motivi emotiva di sentimento di sofferenza talvolta fa maturare dentro di noi un certo grado di coscienza che ha attraversato che ne so una grossa sofferenza di qualche tipo è come se fosse diventato competente di più rispetto a quel tipo di dolore perché l'ha provato su di sé e quindi quando di nuovo sperimenta un tipo di loro è analogo in altre persone lo vede agire questo dolore in altre persone sa di che cosa si tratta è come se avesse conquistato un pezzetto di conoscenza in più attraverso l'esperienza quello è il correttivo naturale in cui incontro va incontro una persona non avendo potuto in maniera diversa prima maturare su quel punto di coscienza dice campi se se tu già danneggi gli altri sarai danneggiato perché questo è un mezzo attraverso al quale non solo tu impari a non danneggiare ma acquisisci la natura di non danneggiare i tuoi simili non sto qua a ripetere tutto quello che più o meno conoscete a proposito del karma anche se talvolta in modo impreciso però vi ricordo che proprio in questo volume di oltre l'illusione noi troveremo molto materiale sul funzionamento della legge di causa d'effetto sul determinismo sul karma si approfondirà molto questo tema vedete dice tempi sa pagina 101 111 l'essere interiore di ognuno l'essere interiore di ognuno ha un suo ciclo naturale di sviluppo né più nemmeno come tutte le cose naturali guardate il vostro corpo fisico inesorabilmente invecchia nonostante gli sforzi che taluni fanno voi state nascendo ad una fase successiva della vostra evoluzione individuale paragonati alla quale siete come il feto nel grembo materno rispetto al fanciullo nato quindi come se noi fossimo qualche cosa che sta diventando che si sta trasformando attraverso le esperienze che stiamo facendo dovete rendervi conto che l'uomo rappresenta il primo balbettio dell'essere siamo piccini piccini proprio all'inizio di questa esperienza e se ne rappresenta così poco nessuno può condannarlo vi sentireste di condannare un fanciullo perché è tale perché non è un adulto con le caratteristiche dell'adulto di dargli una responsabilità perché non è maturo come un uomo eventualmente solo nell'ambito delle cose che il fanciullo deve imparare come fanciullo può essere valutato il suo indice di apprendimento solo nell'ambito della meta individuale che dovete raggiungere può avere senso una valutazione delle vostre esperienze usa il termine valutazione non giudizio non condanna giudizio puntare il dito ma valutazione delle esperienze un selvaggio che avesse imparato a non uccidere giudicato secondo le leggi della sua società che vogliono il nemico sterminato sarebbe condannabile giudicato rispetto alla norma alla meta della sua evoluzione sarebbe invece encomiabile ma ancora giudicato rispetto alla meta del santo dell'amare gli altri come adesso amate voi stessi sarebbe ancora condannabile perché se è vero che chi ama gli altri come se stesso non uccide non è vero il contrario un uomo della vostra società che dovesse imparare il senso del dovere e fosse alla prima fase dell'apprendimento quando il senso del dovere diventa cecità ed avesse supinamente seguito l'ordine di inviare nei campi di sterminio migliaia di creature sarebbe assolvibile perché non una sola volta purché non una sola volta avesse anteposto il proprio tornaconto al suo senso del dovere perché ciò starebbe a significare che l'invocato a sua riscolpa senso del dovere altro non era che un comodo alibi e chi è in grado di dare un giudizio così preciso questa è una domandona sarebbe bello e di effetto rispondere lo stesso interessato nell'aldilà ma così non è nessuno può dare una natura che non abbiamo se non l'evoluzione e allora direte voi allora dico io cioè campis occorre abbandonare un altro falso concetto il concetto del giudizio l'idea che l'uomo nell'aldilà sia giudicato è strettamente connessa al concetto della colpevolezza e della punizione e per essa valgono le stesse considerazioni che fin qui abbiamo svolte non si tratta che l'uomo debba essere giudicato ma si tratta che l'uomo nasce spiritualmente e ciò avviene in modo del tutto naturale senza bisogno di giudici e di giudizi pensate ogni tanto mi viene da pensare a quanta sofferenza molte religioni hanno fatto patire agli uomini con questa idea del giudizio nel dopomorte nei diversi piani di esistenza gli inferni purgatori il limbo il terribile limbo dove si va senza essere né carne né pesce terribile questo esempio i campi di sterminio sarà umano ma mi è difficile da accettare questo punto di vista sì ti capisco bene l'idea ti capisco questo punto qua ma qui il punto che si pone è quest'uomo nella sua alla sua fase evolutiva ciò che deve imparare è il senso del dovere e all'inizio del perché ci vogliono varie vite per imparare il senso del dovere perché diventi propria natura all'inizio quando è solo una cosa che viene dall'esterno è un'indicazione che viene da un comandante militare che ti ordina di fare certe cose tuo senso del dovere ti spinge a ciecamente obbedire a quello che succede stai imparando quello dal punto evolutivo punto di vista evolutivo è proprio quello che devi fare ma bisogna passare da quel punto lì perché se non si passa da quel punto lì non si può poi affrontare quello successivo cioè queste cose attraverso queste esperienze qua siamo passati tutti per arrivare a capire che il campo esterminio è un assurdità dell'umanità sono comportamenti aberranti i comportamenti non coloro che li compiono se li compiono come dice campi nella purezza del gesto la purezza del gesto cioè non c'è qualche altro motivo di interesse personale ma se tu sei volto a svolgere quel tuo compito evolutivo semplicemente sei un alunno che sta imparando una lezione una lezione terribile che fondata essenzialmente sulla quasi totale assenza di coscienza e quando non c'è la coscienza non ti si può chiedere di essere altro da quello queste sono le categorie della dimensione spirituale evolutiva le categorie dell'uomo poi sono quelle di campo esterminio non deve esistere tutti quelli che hanno sterminato altro sono dei delinquenti vanno messi in prigione e questo riguarda le nostre categorie riguarda le morali che noi ci diamo e via 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 come diceva prima campis in una società molto arcaica diciamo in cui è assolutamente indispensabile sterminare il nemico se tu per evoluzione raggiunta non alzi la spada contro quel nemico per la tua società sei un reprobore sei uno che va condannato cacciato o addirittura a tua volta ucciso perché perché non stai seguendo le regole morali di quella società che vede in quel nemico pensate vabbè con gli esempi ne potremmo fare centomila questi sono degli esempi sempre molto forti solo per far capire il punto e il punto è che siamo dentro un percorso evolutivo che non abbiamo alcun alcuna levatura per per esprimere giudizio sugli altri e noi continueremo a farlo cioè chiuso a questa lettura questa sera noi continueremo a guardare alcune cose che non so che arrivano notizie che arrivano da kabul e saremo indignati e giudicheremo i comportamenti di quegli uomini e puntando il nostro dito contro di loro dimenticandosi di tutte le nefandezze che noi stessi abbiamo compiuto e mantenuto con il nostro stile di vita e via 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 insomma la cosa ci porterebbe molto lontano ma è quello che faremo ma quando siamo dentro a questo tipo di lettura dove dobbiamo imparare a superare il nostro senso di separatività ma non dobbiamo superare il nostro senso di separatività solo da coloro che ci piacciono dobbiamo riuscire a maturare dentro di noi il superamento del senso di separatività nei confronti di chiunque e quindi devono cadere i giudizi altrimenti avremo sempre qualcuno con cui non vorremmo avere a che fare e dal quale quindi ci separiamo va beh mi sono un po' perso dentro questa osservazione che ha fatto Olivia che è giusta e interessante allora leggo le ultime tre righe che ho letto non si tratta che l'uomo debba essere giudicato ma si tratta che l'uomo nasce spiritualmente e ciò avviene in modo del tutto naturale senza bisogno di giudici e di giudizi cioè nell'aldilà non c'è qualcuno si arriva di là e ci giudica consentitemi a questo punto di aprire una parentesi per spiegare brevemente le ragioni per cui ciò che afferma un'entità a proposito di un fatto da essa constatato spesso è in contrasto con quanto afferma un'altra entità sempre a proposito dello stesso fatto e con un gran gaudio degli animisti gli animisti sono quelli che ritengono che per esempio le comunicazioni di tipo spiritico come quella che c'è stata nel cerchio in firenze 77 in realtà siano tutto parto della psiche di coloro che partecipano alle sedute allora dice con gran gaudio degli animisti i quali dicono si è un'entità dice che di là è tutto verde un'altra dice che di là è tutto rosso vedete che ognuno dice la sua e quindi non l'entità non posseggono la verità e anzi non esistono neanche allora e con mancelata perplessità degli spiritualisti o degli spiritisti vedete qui campi si ironizza un pochino dice l'aldilà è una brutta bestia intendiamoci bene non per creare delle paure rispetto all'aldilà molte entità credono che ciò che osservano per il fatto stesso d'essere in una dimensione ultrafisica sia la realtà oggettiva e non comprendono che anche la dimensione d'esistenza in cui sono è soggettiva solo la realtà assoluta e oggettiva come abbiamo più volte visto già in tutte le lezioni del primo volume dei mondi invisibili ogni altra dimensione è relativa e perciò soggettiva e quindi non solo le dimensioni di esistenza sono relative e quindi soggettive dopodiché vengono vissute soggettivamente e in maniera personale da chi le vive è come se voi poteste parlare con dieci persone incarnate oggi nel mondo che devono esprimere un'opinione su un determinato fatto ognuna di queste dieci avrà una sua opinione diversa perché perché la vive in maniera personale e vive quella in maniera personale quella cosa che oltre che essere vissuta così personalmente è anche una cosa soggettiva e non oggettiva questo vale per qualsiasi dimensione di esistenza allora dice campis se voi domandate a un'entità per esempio chi è che sceglie la prossima sua incarnazione supponiamo che sia un'entità che non ripeta cose udite dire cioè che non vari che sia abbastanza evoluta da vedere qual è la sua successiva incarnazione qui già sta dicendo che bisogna essere abbastanza evoluti per vedere questo ebbene 99 su 100 vi risponderà che nessuno la sceglie ma che essa stessa la scelta ora voi capite che un'affermazione di questo genere può essere vera in un cosmo perfettamente ordinato e non improvvisato solo se chi sceglie fosse tanto evoluto e illuminato da conoscere e seguire l'ordine divino perché un'incarnazione ha a che fare con un ordine va a occupare quel posto esatto nella storia del di una famiglia di una società quindi non può essere casuale no e quindi deve conoscere e seguire l'ordine divino ma se lo spirito il se l'essere disincarnato avesse questa illuminazione che diventasse oscuramento solo quando è incarnato ditemi fratello che cosa sarebbe l'evoluzione null'altro che un fatto formale badate bene io non dico che il se l'ego lo spirito evolve ma dico che ciò che è conosciuto con questi appellativi è un complesso di stati di coscienza l'uno apparentemente sfociante nell'altro i quali sono realtà sempre meno limitate ora sarebbe assurdo che ad uno stato di coscienza limitato ne seguisse uno illimitato con il solo scopo di far operare una scelta in armonia all'ordine divino e che poi tutto tornasse come prima per dirlo in altre parole non è possibile che un'entità di un certo grado di coscienza che sia trapassata per il solo fatto di essere trovarsi nella dimensione astrale o nella dimensione mentale o nella dimensione di coscienza per il solo questo fatto improvvisamente acquisisse una tale illuminazione di coscienza una tale vastità di coscienza di avere presente tutto l'ordine divino e quindi andare a individuare le cose che debbono avvenire nelle future incarnazioni ora sarebbe mi sono perso allora direte voi come nasce l'errore in certe entità di credere che ciascuno sceglie la propria successiva incarnazione è molto semplice risponde Kempis quando voi avete sete e decidete di bere vi recate laddove avete la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido se qualcuno vi domanda chi ha deciso per voi di bere voi rispondereste che nessuno l'ha fatto e che voi stessi avete deciso così non tenendo conto che questa decisione è il risultato di due fattori da una parte la necessità d'acqua del vostro corpo dall'altra la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido possibile cioè che ci fosse lì vicino una fontana a quale attingere acqua così l'entità che dice di scegliere la sua prossima incarnazione non si rende conto che al di là di ciò che le appare sta la sua necessità evolutiva come per il corpo dell'uomo la necessità di bere sta la sua necessità evolutiva e la possibilità che ha l'ambiente che essa crede di avere scelto quello e quello solo di soddisfare la sua necessità quindi ci devono essere questi due elementi la coscienza deve essere matura a un punto tale da richiedere una determinato percorso evolutivo da incarnato e una condizione ambientale adatta a questo percorso evolutivo e deve esistere per l'appunto quella condizione ambientale quella famiglia, quell'epoca storica, quelle conoscenze tutte quelle cose che fanno parte di un'esistenza ecco perché verso quello si sente attratta e quello crede di avere scelto la legge di Dio quando non si chiama karma doloroso è così lieve che l'oggetto di essa non ne avverte il gioco solo chi può andare al di là di ciò che appare può cogliere il senso riposto delle cose tuttavia non escludendo in umiltà che un altro senso ancora più profondo possa celarsi ai suoi occhi e qui Kempis chiude questa parentesi sul potere che hanno di scegliere le proprie esistenze i disincarnati prima di incarnarsi nuovamente torniamo a noi se nella stagione propizia in un terreno fertile ponete un seme vivo il seme germoglia e automaticamente segue le leggi che regolano il suo sviluppo naturale senza che vi sia bisogno di chi amministri o applichi quelle leggi avviene tutto così in maniera molto naturale non c'è un editto che dice alla pianta di germogliare di mettere le foglie e quindi il fiore di fare il frutto no, avviene e basta e come l'acqua scendendo da monte a valle segue la via di maggiore pendenza così in modo del tutto naturale e spontaneo fra le varie leggi che regolano il ciclo di sviluppo individuale si applica quella più adatta al particolare momento e caso capisco che l'immagine della realtà da cui si è tolto l'umanissimo concetto di un ente supremo che giudica e perdona e interviene direttamente nelle vicende umane anche se di rado e con scarsi risultati visti gli effetti contribuisca a fare di questa realtà qualcosa di inesorabile ma come il corpo fisico dell'uomo vive per lo spontaneo e automatico svolgersi dei processi biologici senza che la psiche dell'uomo ne sia turbata dall'automatismo in sé della vita biologica ma al contrario lo sia quando questo automatismo venga meno così la parte mortale dell'uomo vive per lo spontaneo operare delle leggi cosmiche il fanciullo che si forma nel grembo materno segue un automatismo naturale eppure il risultato di questo automatismo è un evento meraviglioso una vita autonoma allo stesso modo l'uomo nasce spiritualmente in virtù delle leggi cosmiche che via via indirizzano, sostengono, correggono il suo sviluppare esse vogliono il suo vero bene anche quando si chiamano dolore questo è come dire che siamo costantemente accompagnati da qualcosa di più grande di noi che ci sostiene, ci guida, ci nutra per far sì che la nostra natura si manifesti qui ha toccato il tema del dolore e qua ha introdotto un argomento che vi preme particolarmente che non è possibile esaminare in tutta la sua ampiezza questa sera perciò vi dico stando così le cose cioè senza chiedersi perché che senso avrebbe un ente misericordioso che togliesse il dolore dalla vita dell'uomo in quanto solo il dolore è indispensabile in quel particolare momento e caso dell'esistenza individuale che senso avrebbe l'intervento di un ente supremo che ti toglie quella cosa che è funzionale al tuo percorso evolutivo se una pianta avesse bisogno di acqua e se il darle acqua significasse farla soffrire sarebbe pietoso per non farla soffrire farla inaridire badate io non dico che il dolore sia l'unico mezzo che fa evolvere l'uomo ma dico che quando l'uomo si ostina a non comprendere gli eccessi che egli compie richiamano su di lui il correttivo naturale cioè il dolore a quel punto dannoso sarebbe stornare dall'uomo quel naturale correttivo il dolore può essere evitato solo non muovendo le cause che lo provocano ed ecco un'altra domanda che vi preme come è possibile fare ciò se non conosciamo le cause che muoviamo è giusto che sia così perché l'uomo deve agire non per paura di quelle che egli pensa possano essere le conseguenze a lui dannose ma perché è convinto che deve fare così non per paura evolvere non significa cambiare l'atteggiamento esteriore e rimanere gli stessi nell'intimo ma significa trovare una nuova natura e da quella semmai cambiare il proprio comportamento e qui ci fermiamo per questa sera c'è ancora un paio di paginette interessanti che direi vi suggerirei di leggere vi suggerirei di leggere perché perché sono sono utili alla vita di ogni giorno non sono solo i grandi temi filosofici la spiegazione razionale di come funzionano le cose nascoste quali sono le leve segrete che indirizzano la nostra vita ma sono anche alcune cose che ci aiutano ad affrontare meglio la vita di tutti i giorni e a far retrocedere passettino passettino un proprio millimetro per millimetro quel senso di separatività che ci tiene costretti dentro una certa visione della vita io vi suggerisco di leggerli perché queste pagine qua perché sono veramente molto 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 importanti leggo solo le ultime righe che questo nostro mondo è come se parlasse di oggi dalle tragiche confuse apparenze altro non sia che un crogiuolo dove ogni essere nasce e dove ognuno indistintamente nell'illusione trovi in sé la coscienza che lo conduce alla realtà questa è l'unica concezione che si concilia con il pensiero razionale e con le aspirazioni mistiche senza che l'uno né l'uno né le altre debbano rinunciare a qualche cosa perciò nel lasciarvi vi auguro che questa sia la vostra verità capire di essere dentro a questo crogiuolo che oggi per noi si chiama covid con tutte le difficoltà che ci possono essere e dal quale stiamo apprendendo qualche cosa una cosa che avrebbe senso è chiedersi di fronte a queste esperienze che stiamo vivendo che cosa che cosa sto imparando che cosa devo imparare da questa esperienza cosa mi porta di nuovo di diverso cosa smuove dentro di me questo credo che potrebbe essere un modo utile di viverla allora fatemi vedere se c'è qualche domanda a cui posso rispondere intanto però vi dico ringrazio come sempre non l'ho fatto all'inizio ma lo faccio adesso ringrazio sia Enrico Ballantini che ci ospita dentro questa vasta comunità di Focus 3.0 il mistero della vita e Anna Tamburini-Torre che continua a volere che queste lezioni ci siano dentro la Lux che da lei organizzata e fondata sempre dentro Focus all'interno di Focus come università della conoscenza e che ci rivedremo la prima ecco adesso non sono così sicuro della data ma dovrebbe essere il primo venerdì sera sempre alle 21.30 di febbraio e ripartiremo leggendo un'altra delle guide del cerchio di Firenze 77 che è Claudio che svolge tutto il tema legato al conosci te stesso che è molto importante ma insomma approfondiremo questo la prossima volta ci lasciamo con questo con questa promessa di vederci inshallah come dicono gli arabi e cioè a Dio piacendo ci vediamo tra circa un mese e per chi ce l'ha questo testo se no come ho detto ve lo trovate dove vi ho indicato leggete leggete le pagine mancanti che non ho letto questa sera perché sono veramente importanti grazie di cuore di essere stati di nuovo qui stasera tutti insieme e ci aggiorniamo ci vediamo fra un mese e a presto a presto